Adesso ci vediamo come Antonio e Maria. Perché ripeti che la vita non è quella che ci appare? Commento. Perché adesso ci vediamo come Antonio che sei tu e Maria che sono io. Ma se fossimo più evoluti dalle nostre due persone ce ne sarebbe solo una, che si potrebbe chiamare Maria Antonio, e così via. Grazie.